Ciao a tutti, sono Francesco Bocciardo, medaglia d'oro sui 400 stili liberi alle Paralimpiadi di Rio nel 2016. Per oggi sono qui per parlare di una cosa molto più importante, ossia della ONLUS, il porto dei piccoli. Una ONLUS che da ormai diversi anni dà una mano ai bambini più bisognosi, in particolare a quelli che sono in ospedale. Ognuno di noi a suo modo può dare un contributo a una mano, come taramite il 5 per 1000, in sede di dichiarazione dei redditi. Fate poco per donare tantissimo, perché se ognuno di noi dona qualche cosa, riusciremo ad aiutare questa associazione che fa tantissimo per i bambini.